Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura torniamo a parlare del delitto di Fogliano della Chiana, l'omicida in carcere. Questa mattina durante l'udienza di convalida ha deciso di restare in silenzio di fronte al GIP. È estremamente agitato, confuso e disorientato. In questo momento veramente non è nelle condizioni per poter rispondere alle domande del GIP, quindi ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere. Dopo un primo momento in cui invece aveva espresso la volontà di voler rispondere a tutte le domande che gli sarebbero state poste. È così rimasto in silenzio Irfan Arana Mohamed nel corso dell'udienza di convalida del fermo all'interno del carcere retino di San Benedetto. Si è trovato veramente in una condizione di estremo disagio per cui a mio avviso fatica anche a comprendere quello che accade intorno a lui. Il 37enne pakistano arrestato per l'omicidio della psicoterapeuta Letizia Girolami, nonostante l'iniziale intenzione di rispondere alle domande del GIP cascone e la presenza di un interprete, non ha dunque aggiunto altro rispetto alla confessione resa poche ore dopo il delitto ai carabinieri. In questo momento non è stato in grado poi di ricostruire davanti al GIP quello che è successo il pomeriggio di sabato. L'uomo ex fidanzato della figlia della vittima aveva parlato di una lite degenerata nell'aggressione mortale consumata nei campi della tenuta di Fogliano della Chiana. L'avrebbe colpita con un bastone raccolto per terra infliggendole un colpo fatale al volto vicino ad un occhio. Ha avuto però un pensiero per questa donna, per la sua ex fidanzata? Non ha detto nulla, in questo momento non ha riferito alcunché in merito. Il 37enne resterà in carcere, il GIP infatti ha disposto la convalida del fermo e il legale dell'uomo non ha chiesto misure alternative. Restano però ancora molti punti da chiarire, non è stata infatti ritrovata l'arma del delitto né il cellulare della vittima. Spetterà poi all'autopsia stabilire l'esatta causa della morte. Era invece attesa per oggi la sentenza per il delitto di San Polo, ma l'udienza si è conclusa con un colpo di scena. Il gruppo infatti ha rinviato tutti gli atti alla pubblico ministero che dovrà riformulare l'accusa. Evidentemente gli atti ci hanno dato ragione, le carte ci hanno dato ragione, non fu legittima difesa. Torna tutto nelle mani dell'APM, questo quanto deciso dalla giudice Claudio Lara, nel giorno in cui invece era attesa la sentenza per Sandro Mugnà, il retino che uccisa a colpi di fucile il vicino che gli stava assaltando l'abitazione con una ruspa. La vedo commossa. Finalmente è stata fatta una parte della giustizia. Pesante per noi, però ripeto, bisogna leggere e poi valutare cosa fare. Durante la scorsa audienza l'APM Laura Taddei aveva chiesto una condanna per eccesso colposo di legittima difesa a due anni e otto mesi. Le parti civili, la moglie e i due figli della vittima, avevano invece chiesto la riqualificazione del reato in omicidio volontario. Tecnicamente sono stati restituiti gli atti al pubblico ministero, avendo il giudice delineato un fatto completamente diverso da quella che è la legittima difesa, ma che può individuare un omicidio volontario. La tragedia risale alla notte del 6 gennaio 2024, quando Mugnà e si trovò di fronte il vicino, Gesim Dodoli, che con la benna della ruspa stava cercando di demolirgli casa. A quel punto imbracciò il fucile, regolarmente detenuto, e fece fuoco, prima un colpo in aria, poi quattro diretti verso l'uomo che era alla guida dell'escavatore, uccidendolo. C'è il vicino che mi ha buttato su tutta la casa, ha filiato tutti i muri, ha filiato ogni cosa. Venditeci subito, mi raccomando. I legali di Mugnà hanno sempre sostenuto la tesi della legittima difesa. Siamo direi sconcertati, però sono cose che succedono e vedremo di difenderlo al meglio in questa nuova fase, che è una fase più complessa, sinceramente, che non mi sarei mai aspettata, però ci sta. Secondo voi non si è trattato in alcun modo di domicilio volontario? Ma scherziamo. Sono tre gli indagati per la morte di Marco Ricci, l'operaio di 39 anni di Sansepolcro, caduto per oltre 10 metri nel vano ascensore di una palazzina che stava ristrutturando nell'ambito dei lavori per la realizzazione del parco del ponte, dedicato alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Ci sarebbero coinvolte anche aziende a retine. Secondo la ricostruzione del nucleo per la prevenzione della sicurezza negli ambienti di lavoro, Ricci non avrebbe avuto titolo di lavorare a Genova. E ci sono stati ancora colpi in aziende di preziosi della comparto Aretino, un furto nella notte in via Ramelli. Nelle mire dei malviventi ancora una volta la Taitù. I ladri sono entrati all'interno dell'azienda, passando attraverso una finestra e una volta dentro sono riusciti a portare via circa 50 kg d'oro. La stessa azienda era stata vittima di un furto e un attentato furto nei mesi scorsi. Sull'episodio stanno indagando adesso i carabinieri di Arezzo. Un uomo di 65 anni invece questa mattina è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava in strada in località Bagnaia alle porte della città di Arezzo. È stato attivato così poco dopo le 8 il 118 dell'Aso Toscana Sud-Est, sul posto oltre ai sanitari anche la Polizia Municipale per i lievi dell'incidente. L'uomo in gravi condizioni è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale delle Scotte di Siena con il pergaso. In Valdarno invece sono stati salvati al termine di una lunga operazione una cagnolina e i suoi otto cuccioli. È successo a Levane e la cagnolina aveva partorito in una tana profonda a 15 metri e lì era rimasta con i suoi piccoli. Dopo la segnalazione di un passante sono intervenuti i Vigili del Fuoco e Marco Fanti, un pet detective professionista specializzato nella ricerca e nel recupero e soccorso di animali smarriti. Adesso tutti si trovano nella clinica veterinari Andromeda di Arezzo e presto verranno trasferiti al rifugio gessito da Empa Valdarno e lì attenderanno una famiglia pronta ad accoglierli. Adesso cambiamo argomento e ci spostiamo a Cortona dove è rappresenta Palazzo Casali Gino Cecchettin per un incontro. Faccio fatica a descriverlo perché io non ho giorno quando mi sveglio che il primo pensiero non vada a Giulia. Raccontare quel dolore lacerante, potente, penetrante per trasformarlo in una sfinta propulsiva di aiuto verso gli altri. Gino Cecchettin arriva quasi in punta di piedi nella Sala Medicea di Palazzo Casali a Cortona, gremita in ogni suo angolo per partecipare all'evento dell'Associazione Culturale Dardano Camminiamo Insieme, nata per dar voce al tema della violenza sulle donne. Noi abbiamo un dono e il dono è la nostra vita e va vissuta. Io ho altri due figli e loro sono la mia guida. So che ho perso una figlia e non voglio perdere altri due, per cui la forza me la danno gli altri due ragazzi. Era l'11 novembre del 2023 quando fu uccisa a 22 anni a coltellate dall'ex fidanzato Filippo Turetta, una ragazza che con la sua storia è diventata un simbolo suo malgrado, suscitando una reazione collettiva fatta non solo di dolore, ma anche di volontà di costruire una società il più possibile libera dalla violenza di genere. Sì, è un po' quello che mi ha ispirato a fare Giulia. Io mi porto a casa sempre un po' di ricordi di Giulia, ricordandola, e porto un po' di quella che è la testimonianza della sua vita, 22 anni vissuti con gioia e di speranza. È proprio ai giovani che Cecchettin si rivolge con forza. Io a loro dico sempre non perdete mai il timone che vi guida verso la felicità, cercate di guardarvi dentro, cercare di capire quelli che sono i vostri sogni, sempre ispirato da Giulia, che aveva il sogno di diventare una grande illustratrice, guardare dentro di sé, capire quelli che sono veramente i suoi sogni e cercare di realizzarli. Da questa spinta è nato un libro, Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia, e una fondazione intitolata a lei. Aiutare i ragazzi, aiutare a combattere questo problema della violenza, la violenza sulle donne soprattutto, e cercare di portare la parità in una società dove comunque la parità non c'è. La prima missione sarà quella di fare formazione nelle scuole. Lo faremo tramite un team di professionisti che inizieranno a fare delle lezioni nelle scuole per educare l'affettività, ma soprattutto cercare di capire quando si vive in una situazione di violenza e come capire quando si è in una situazione di violenza e come difendersi da questa. Prosegue il tour di presentazioni toscane del rapporto Eco-Mafia. Dopo la presentazione regionale del volume lo scorso luglio a Firenze, continua infatti il tour con due appuntamenti in provincia di Arezzo, a San Giovanni Valdarno e a Cortona, per un approfondimento sugli sviluppi delle inchieste in corso, l'abusivismo sulle coste e il traffico di rifiuti, con un focus di riflessioni sul procedimento giudiziario dell'inchiesta a Cheu. Primo appuntamento domani a San Giovanni Valdarno, organizzato dal Circolo Legambiente Valdarno Superiore alle 17.45 nel Salone Acli. Ed Arezzo invece ha preso avvio la nuova edizione del censimento Istat della popolazione, che coinvolge come ogni anno un campione rappresentativo di 2450 famiglie rettine estratte casualmente. I nuclei hanno ricevuto per posto una lettera dall'Istat che informa sulle modalità di partecipazione e restituzione del questionario elettronico contenente quesiti sulla famiglia e sull'alloggio. Sempre due strade per fornire le risposte, compilando il quesito via web autonomamente entro lunedì 9 dicembre, collegandosi al sito dell'Istat, oppure a partire da martedì 12 novembre, le famiglie che non hanno ancora risposto riceveranno la visita di un rilevatore incaricato dal Comuno e saranno contattate dal rilevatore per rilasciare l'intervista. Per domani invece è stata disposta l'interruzione della fornitura di energia elettrica nella zona Montebianco dalle 9 alle 16 per interventi di manutenzione da parte della società distributrice. In considerazione dell'intervento, non garantendo lo svolcimento delle attività didattiche in piena sicurezza per la scuola primaria a Montebianca, il Comune ha disposto un'ordinanza di chiusura. E adesso voltiamo pagina per parlare di sanità. Il 10 ottobre si celebra la giornata della vista. Ad Arezzo tornano così le visite, gratuite per l'occasione. La prevenzione è fondamentale per provare a conservare un dono prezioso come quello della vista che chi non ce l'ha più, come noi disabili visivi, sappiamo bene davvero quanto sia fondamentale averlo. Ottobre è il mese della prevenzione, un'importante occasione per prendersi cura della propria vista ma anche per scongiurare altre patologie. Noi prevenzione la facciamo tutto l'anno, questo è il nostro compito, la nostra missione e di conseguenza lo facciamo giornalmente. Però è chiaro che ogni tanto bisogna richiamare l'attenzione del cittadino. La giornata mondiale della vista promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cicità sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Quest'anno si celebra giovedì 10 ottobre. Un'occasione particolarmente utile per poter seguire anche nel nostro territorio con i cittadini una opportunità, quella della prevenzione, per noi particolarmente utile. Malattie che sicuramente possono essere limitate o comunque gestite senza la prevenzione non avrebbero opportunità di un intervento fattivo. Una giornata celebrata ad Arezzo con visite gratuite in programma per il 10 ottobre destinate a soggetti di età superiore a 40 anni che non siano già in terapia per patologie oculari o non abbiano eseguito visite oculistiche negli ultimi due anni. La modalità nostra del territorio aretino che crediamo sia particolarmente efficace è quella di una forte collaborazione con l'ASLA Toscana Sud-Est quindi la nostra ASLA del territorio che con noi collabora fortemente ormai da decenni si può dire con l'iniziativa degli ambulatori aperti quindi visite gratuite destinate alla cittadinanza tramite prenotazione telefonica. Un convegno al mattino organizzato in collaborazione con l'ASLA Toscana Sud-Est è uno spettacolo teatrale nel pomeriggio. Sono queste le iniziative messe in campo per la giornata mondiale della salute mentale che si celebra giovedì 10 ottobre dall'associazione Vivere Insieme di Arezzo. Il programma della mattina prevede appunto un convegno all'auditorium Pieraccini del San Donato aperto alla cittadinanza e accreditato dall'ASLA come evento formativo per gli operatori sanitari. Un momento poi per ricordare l'inizio 50 anni fa del servizio di salute mentale nell'area Aretina. È invece partita per l'Angola la laureanda e nostra ettericia di Lucignano, Sofia Scarpellini che si è aggiudicata alla borsa di studio intitolata Federica Canneti. La giovane di Castiglione Fiorentino scomparse in un terribile incidente stradale. A distanza di due anni dalla sua scomparsa, la mamma, il papà e la sorella stanno realizzando uno dei sogni della giovane attraverso un premio istituito lo scorso maggio che permetterà per i prossimi 10 anni di fare questa esperienza formativa nel segno indelebile di Federica. In Casentino invece l'intera comunità si è mobilitata per una raccolta fondi lanciata da una giovane di Prato Vecchia Stia per l'acquisto di un ascensore. Voglio dire una sola cosa, questa sera questo comune è diventato una comunità, finalmente dopo tanto tempo, e questo grazie a Morgana. Grazie. Due paesi assieme per una cena di beneficenza per Morgana Tilli, la giovane che per il suo compleanno aveva chiesto aiuti per poter montare un ascensore nella sua abitazione e diventare così indipendente nell'entrare e nell'uscire dalla casa. Il sindaco di Prato Vecchio Stia, Luca Santini, assieme ai volontari delle Proloco di Prato Vecchio e di Stia, ha così organizzato l'evento, circa 600 i presenti alla cena. Morgana è costretta su una sedia a rotelle da quando aveva 17 anni a causa di una malattia rara genetica. In occasione dei suoi 30 anni aveva lanciato sulla piattaforma online GoFundMe una raccolta fondi per mettere nella sua casa l'ascensore. Ad oggi le donazioni hanno superato i 13.000 euro. Grazie a tutti davvero, da prima a ultimo. Io non me l'aspettavo ovviamente, una cosa di genere. Io ho creato una grande raccolta con me. Se ricevono un piccolo aiutino, ma non mi aspettavo. C'è una cosa del genere, proprio no. Dopo il tutto esaurito alla Teatro Petrarca del primo appuntamento, prosegue la quinta edizione dello Youth Music Festival. La rassegna, diretta dal violinista Giovanni Andrea Zanon, direttore artistico della Fondazione Guido di Arezzo, che ha l'obiettivo di avvicinare il mondo della musica classica ai più giovani. Sabato 12 ottobre del 19, sempre al Petrarca, è il concerto dell'orchestra giovanile Aretina, composta dai migliori musicisti di Arezzo e provincia, di età compresa tra i 13 e i 26 anni, diretta dal fondatore, il maestro Roberto Pasqui. Al MUMEC, invece, quest'anno torna la giornata nazionale delle famiglie al museo. Domenica 13 ottobre, apertura straordinaria, con orario dalle 10 alle 13, ed ingresso a prezzo ridotto per tutti a 3 euro. Magia del cinema, scoperte delle tecnologie per internet cellulare, storie di grandi personaggi, grandi inventori. Tutto questo, assieme alla mostra Il Mondo in Tasca, è un laboratorio per grandi e piccoli esploratori che potranno divertirsi costruendo e proiettando grandi ombre al MUMEC. E adesso la pagina dello sport. Lo scorso fine settimana ad Arezzo è il grande spettacolo dei campionati italiani di corsa su strada dei 10 chilometri. Vediamo il servizio. Un autentico spettacolo nel cuore di Arezzo con i campionati italiani 10 chilometri su strada di podismo. L'arrivo era in Via Roma, con un percorso disegnato su un circuito nel centro cittadino. Con l'organizzazione dell'Unione Polisportiva Policiano, con in testa Fabio Sinatti, la giornata è stata uno spettacolo tecnico e di pubblico. Sia con i giudici, con il delegato tecnico che è riuscito veramente a fare una cosa grande, con la collaborazione anche della Polizia Municipale, di tutto lo staff della Polisportiva Policiano e anche di altri volontari della racchetta, siamo riusciti veramente a focalizzare un po' tutta la sintesi della manifestazione. E questo ci ha permesso di raggiungere, direi, un obiettivo importante, quello proprio di arrivare alle 18.15 con un grande spettacolo, presenza massiccia da parte del pubblico, atleti fantastici che hanno dato vita a un agonismo sano fino all'ultimo centimetro e questo ovviamente ha permesso di far assaporare la città di Rezzo un grande spettacolo di atletica. Nuovi campioni nazionali per le categorie più attese, Francesco Guerra in campo maschile e Valentina Gemetto in quello femminile, belle le gare anche nelle categorie giovanili. Circa 800 atleti, circa, ma direi che ogni gara da quelle anche della categoria allievi, che di solito ne vediamo pochissime anche partecipare, sono stati partecipati, quindi a detta anche di molti è stato il campionato italiano più partecipato degli ultimi anni. Un grande tempo nei 10 chilometri, un grande tempo nel 21-43. Primo turno infrasettimanale di campionato per l'ABC Servizi Sbacca e mercoledì alle 21 sarà impegnata sul parquet della palestra Lazare di Empoli contro l'Use Computer Gross. L'ABC Servizi, reduce della vittoria contro Quarrata di domenica scorsa, si trova subito ad affrontare una delle formazioni più attrezzate del girone. Per la scuola Baschetta Rezzo sarà dunque un test molto probante contro un avversario di prima fascia per valutare quelle che potranno essere le potenzialità del quintetto di coccio a fioravanti in questa stagione. Questa per stasera era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.